Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video outfit, non so come sia la luce, nuova postazione, anche se l'avevo già usata ma c'avevo la luce esterna sabato sera sono pronta per scendere, quasi, devo ancora fare delle cose trucco sul rosa e il nero nella piega, le labbra lucide e una base abbastanza leggera perché inizia a fare caldissimo all'orecchio ho messo l'orecchino gem che ci sta, visto gli anni 80 che stanno arrivando più che mai, anzi sono già arrivati al polso ho l'orologio bianco con il riquadro, ci sono dei fiorellini su rosa, lille eccetera un braccialetto rosa e il cuoricino a metà con la fedina allora addosso ho messo questo top anche se a collo alto ma è molto trasparente quindi è molto leggero il cuore dietro è super scollato, sì tutta la schiena praticamente è fuori giù visto il caldo a voi anche sulle gambe bianchissime ho messo un pantaloncino di jeans se sentite rumori strani e molesti, cioè è ritornata la sorella da Roma, ogni tanto ritornano stavo dicendo, quindi giù un pantaloncino di jeans questo outfit l'anno scorso l'avevo messo con un pantaloncino bianco e mi era piaciuto tantissimo solo che questa settimana faccio badge jumping e mi butto dall'elicottero con le ali e quindi pantaloncino di jeans, però l'effetto è molto simile, molto carino borsa gigante anche se sera, molto anni 80, non so se sono tagliata di testa perché non mi vedo è una borsa rosa che conoscete, bella capiente, è un bel rosa, si nota nel senso, a parte che è grande poi questo volore particolare, molto metallico, si nota tantissimo addosso ai piedi questo paio di scarbisandolo rosa cipria che avete già visto in un altro outfit non è comodissimo ma a me piace tantissimissimo a mia fidanzia non piace da niente finale in movimento perché sto scendendo spero che questo video di questo outfit vi sia piaciuto, vi abbia potuto dare un piccolo spunto io ora scendo sabato sera, eccola con la sorella di Roma ok, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi, ciao ragazze, in gamba!